Sappiamo le ricchezze naturali della città di Taranto, le risorse naturali, il mare, i lidi, però per poter fruire, godere di queste ricchezze occorre anche una grande dose di civiltà, di impegno e qui tutto l'impegno di Chima Ambiente Amiu, un incontro che si è tenuto giorni fa proprio per quanto riguarda i lidi, tenerli puliti, accoglienti, fruibili per i cittadini e per i turisti. Parliamo dell'offerta e dello sforzo di Chima Ambiente Amiu in estate per i nostri lidi. 21 lidi che sono interessati da questo nuovo servizio che vedrà Chima Ambiente poter fare a giorni alterni tutte le tipologie delle frazioni di rifiuto, quindi organico, vetro, multimateriale e indifferenziato. I gestori stanno collaborando in maniera positiva insieme ai volontari di rete raccolta, faremo una serie di iniziative di sensibilizzazione e daremo dei gadget, quindi delle maglie per aiutare la raccolta differenziata. I gestori stanno collaborando, siamo contenti, Taranto oggi è un numero importante di raccolta differenziata, dobbiamo fare di più meglio affinché si possa raggiungere l'obiettivo primario che è quello di fare e la raccolta differenziata quindi per l'ambiente ma anche ridurre le tasse per i cittadini.